come succedono le tragedie inquadra quello che sta facendo sta fermando ecco il treno questo è da striscia dotate le barre alzate l'omino che dirige il traffico il trenino che passa che giustamente lui c'ha il semaforo verde e noi ce l'abbiamo rosso con le barre alzate per male che il cristiano sta fermando sbara alzata semaforo rosso grande e vai